Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una NDE particolare, una NDE negativa. Oh, finalmente vediamo se riusciamo a parlare anche qua su YouTube delle NDE negative. È sostanzialmente uno dei motivi per cui molte persone faticano a credere all'NDE come a un fenomeno naturale, a un fenomeno universale, più che naturale, scusatemi, che colpisce tutti indipendentemente dal tipo di religione, eccetto sociale, cultura e nazionalità, eccetera, è proprio perché si parla solo delle belle cose che succedono con le NDE, ma ci sono anche NDE negative. Se già le persone fanno fatica a parlare delle NDE positive, immaginiamoci di quelle negative, è veramente difficile che parlino di questa cosa. Cosa altra o non secondaria è che la maggior parte delle persone che parlano, eccetera, eccetera, non ne parlano. Solo chi, come il sottoscritto, ha studiato per anni l'NDE, parla anche di quelle negative, perché c'è da sapere che non va sempre tutto bene e c'è anche da sapere che noi ne abbiamo una buona responsabilità. Oggi parliamo della NDE di Anna Johnson. Anna Johnson ha avuto un NDE particolare, si è sempre considerata migliore degli altri, è sempre stata una donna indipendente, è sempre stata una donna che andava con chi voleva, ha sempre fatto i suoi interessi senza mai badare agli altri e questo lo dice lei per prima durante l'intervista fatta alla JANS, l'associazione internazionale che studia le NDE. La data in cui è avvenuta questa NDE è il 2 febbraio 2004, quindi lei in seguito a un'emoragia interna viene portata d'urgenza in ospedale, lei ricorda vagamente il trasporto in quanto la pressione sanguigna era calata parecchio e mentre i medici cercavano di capire dove poteva essere questa emoragia, probabilmente dovuta a un piccolissimo aneurisma, per fortuna non è esploso completamente ma si è solo forato, altrimenti la nostra Anna sarebbe morta, invece così è riuscita a sopravvivere fino all'arrivo in ospedale. Ovviamente i medici fecero una lotta contro il tempo, quando la pressione siese oltre un certo limite entrò in arresto cardiaco, arresto cardiaco e quindi morte dichiarata, ciò nonostante è che i chirurghi decisero di tentare il tutto per tutto, sembrava di aver individuato attraverso una macchia sulla pelle tra la clavicola e il collo il punto esatto dove questa vena o arteria si fosse bucata, forata, quindi le fornirono subito del sangue sintetico e del plasma e cercarono di chiudere questa piccola falla nei suoi vasi sanguini. Nel frattempo cos'è successo a Anna? Lei ci racconta di essersi vista un po' come succede in molte NDE fuori dal corpo, di aver visto i medici che si affannavano per cercare di curarla e poi di essere stata proiettata improvvisamente attraverso un tunnel o un buco, lei non si ricorda molto bene questa parte, in un campo, un campo fatto di fiori come di quelli che non aveva mai visto prima, c'erano dietro delle montagne, il paesaggio era incontaminato e sembrava che non avesse fine e lei vi stava fluttuando sopra, fino a qua sembra una delle solite NDE a lieto fine, improvvisamente però si sentì dire da una voce di cui lei non sa la provenienza, non l'ha udita, quelle orecchie l'ha sentita dentro di sé, questo non è il posto che ti meriti, quindi improvvisamente un altro tunnel si aprì sotto di lei e la risucchiò, si trovò in un ambiente nebbioso, oscuro dove si faceva fatica a vedere a un palmo dal naso, così ci racconta Anna, sentiva come un malessere generale, sentiva freddo, sentiva una sensazione che fisicamente si potrebbe definire simile a molta fame, sentiva il suo spirito in quanto lei dice che non aveva corpo, la forma era sferica dove lei poteva sferire delle braccia e una specie di test, così dice lei ovviamente perché lei non si vedeva, non si specchiava, però si poteva vedere e vedeva questa forma piuttosto sferica di sé stessa e però quando lei desiderava avere delle braccia aveva delle braccia, quando desiderava avere delle gambe aveva delle gambe, quindi questo ci conferma ancora una volta che nell'aldilà potremmo assumere la forma che più ci congeniale o che pure può essere più gradita da chi incontreremo. Lei avanzò per un tempo che definisce infinito in questa oscurità nebbiosa e sentiva sempre di più un'angoscia prominente, più avanzava e non era lei che voleva avanzare ma fluttuava quindi risucchiata in questo buio nebbioso, così lo definisce lei, sentiva sempre l'angoscia aumentare sempre di più. Iniziò a vedere delle ombre che scattavano a destra e a sinistra di lei davanti e dietro, sentiva quelle che lei ritiene delle risate sataniche, dei tormenti proprio, si sentiva in colpa, iniziava a sentire e a vedere dentro di sé tutte le cattiverie che aveva fatto durante la sua vita, più che altro tutto il menefreghismo, quanta gente aveva fatto soffrire, quanti uomini aveva lasciato, i genitori per cui lei aveva sempre dato poco peso, perché lei voleva essere una donna indipendente, voleva essere diversa da tutti e si sentiva superiore a tutti. Quindi tutte queste cose le sentiva dentro di sé e ci racconta che era come avere un flusso di informazioni costante, senza una cronologia, ecco quindi non c'era un inizio, una fine, ma c'era un insieme. Questo insieme a queste sensazioni stava diventando un tormento veramente insopportabile. Quindi Anna cosa fa? Si ricorda per un momento che la sua mamma le aveva parlato di Gesù quando era piccola. quindi lei dice di aver provato a chiudere gli occhi, ma non ci riusciva, continuava a vedere tutto quello che c'era intorno a sé e pregò Gesù, chiese perdono e disse che se avesse avuto un'altra possibilità avrebbe sicuramente cambiato il suo modo di essere, avrebbe cercato di amare gli altri. Improvvisamente sta per scattare, sta per scattare un qualcosa, vede una piccola luce che le viene incontro e diventa sempre più grande. Quando sta per aggiungere la luce si ritrova sparata nel proprio corpo e finalmente i medici tirano un sospiro di sollievo sono riusciti a rianimarla. Vi ricordo che questa NDE è avvenuta il 2 febbraio 2004, Anna ha avuto questa NDE negativa. Dopo essere stata interrogata da Allianz, ovviamente aver visto le cartelle cliniche etc., ci sono state fatte molte domande e quando le è stato chiesto, se ha vissuto altri episodi del genere o ha visto il suo futuro, lei ha risposto di no. Ha detto che la sua vita, una volta tornata in salute, è letteralmente cambiata, ora fa volontariato, va tutti le settimane a trovare i genitori, le va a far la spesa, accompagna la mamma, si è trovata un compagno a cui è molto devota, insomma la sua vita è cambiata, ma dice anche che ha scoperto che tutta quell'ansia di voler fare, andare etc., è perché lei era solamente concentrata su se stessa, adesso che è concentrata sull'amore per gli altri, si sente molto soddisfatta e realizzata. Bellissima questa NDE negativa, oserei dire perché ha cambiato profondamente Anna, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e se avete qualche domanda sulle NDE negative che magari un prossimo video cercherò di rispondervi. Vi chiedo cortesemente come sempre di iscrivervi al canale, mettere like, condividere questi video sui vostri social e quindi darmi una mano a crescere, venite a trovarmi sul Pirata dove facciamo qualche discussione, mi conoscerete meglio non tanto come divulgatore ma come persona, quindi trovate i link in descrizione e iscrivetevi se vi fa piacere anche sul canale Telegram. A tutti voi un caro saluto, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Armando, ciao!